musica 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 ok ben ragazzi oggi si riprende con andate ho una cuffia si o una cuffia no continuo che cazzo di brutto posto ok devo giocare così perchè ho la video camera e spero mi si senta allora l'ultima volta si mi spiace stai calmo ah il mouse scusate l'ultima volta abbiamo visto lì cosa c'è qua come si intergetta è troppo buio per vedere il muro più vicino è troppo buio per vedere vicino il muro scusate animazione un dinosano sono uno stecosauro scusate cosa è successo oh oddio non mi aspettavo che ti venissi qui così presto non mi sono lavata non cioè tutto così non mi sono belli non mi sono del tutto vestito è tutto il casino e se salve io sono il dottor o dottoressa dottoressa dottor alfis sono sono lo scienziato reale di Asgore ma 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 non sono un di quei brutti cefi in realtà da quando tu hai messo i passi fuori dalle rovine io ti ho osservato la tua il tuo cammino attraverso i miei schermi i tuoi combattimenti le tue amicizie tutto e originalmente volevo fermarti ma guardarti quindi guardare qualcuno what guardare qualcuno attraverso uno schermo ti fa veramente ti farà per loro probabilmente qualcosa così o no voglio aiutarti usando la mia conoscenza posso facilmente guidarti attraverso le hotland e conosco una via giusta per il castello di Asgore non c'è problema beh in realtà c'è solo una piccolissima clausola molto tempo fa ho fatto un robot chiamato Mettaton originariamente ho costruito l'ho costruito per essere un robot di trattenimento o sai come una star robotica della tv o qualcosa di questo tipo comunque recentemente ho deciso di renderlo più utile e lo sai sono qualche aggiustamento pratico come a dei cosa modalità anti umane per il combattimento veramente dottore o dottoressa che cazzo non lo so ovviamente quando ti ho visto arrivare ho immediatamente ho rimosso questi aggiornamenti sfortunatamente potrei avere non ho letto la frase per colpa di Roma adesso è un'infermabile macchina di omicidio assetato di sangue umano no eh 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 ma ehm sperantamente non esiste un italiano speranzosamente non speranzosamente eh se siamo fortunati non lo troverai eh eh Ci sono Hai sentito qualcosa? Oh cazzo Aiuto Oh no Che è successo? Oh sì Benvenuti bellezze Cos'è? I'll quiz Al quiz show Di oggi Oh ragazzi Posso veramente dire Che sarà un bello show Fate tutti un grande pauso Al nostro meraviglioso Sfidante Non hai mai Non hai mai giocato Prima bellezza Non c'è problema È semplice C'è solo una regola Rispondere correttamente O muori Metatron attacca Controlliamo le sue statistiche Metatron 10 di attacco 999 di difesa Il suo corpo metallico Lo rende vulnerabile L'attacchio Iniziamo con una semplice Qual è Il primo per vincere La pietà Io pensavo che risponderà correttamente Questo significasse pietà Ecco il tuo terrificante premio Qual è il nome completo? Asgord È l'unico che si chiamava Asgord Sai che Il problema è che se non mi ricari Come uccide L'abbiamo parlato abbastanza di te Parliamo di me Di cosa sono fatti i robot Open dreams Metallo Ok Troppo facile per te E con un'altra faccia per te E i due allenatori All'altro vi sono un'altra In PlayStation Non lo so Alvis mi sta dicendo di? What the fuck? Non contare Sulla tua vittoria Quanti? Ma che Ha detto Alvis Giochiamo a un gioco di memoria Ah è un frog Cracrana 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 No Ma che Che cosa? Vabbè facciamoci aiutare Alvis Ho già capito Puoi farcela con questa? Come si bacia un fantasma? E chi è? E chi è? E chi è? E chi è? Perché i secondi aumenterlo? Boh E Alvis non la sapeva Ok E chi è? Eccolo una semplice 2,4,6,8 C Decisamente sì Perché Ci sono continuato un po' Io restavo pure a contare Il quiz continua E' al momento di dare fuori E' il momento di dare fuori Quella pesante Il mio mio chi si chiude Oh oh la conosco La conosco La conosco Oh oh la conosco Mi avresti dovuto dire Ti chiederò una domanda Saprei sicuramente Saprei sicuramente Sarà ovviamente Conosceremo in mente la risposta Su chi ha la E che cosa ne so io Come posso Andai Vedi Andai Te avevo detto che era Ovvio Anche l'umano L'ho capito Ho sparato a casa E l'ho capito Sì Lo scrive Scrive il suo nome Nel margine Nel suo nome Scusa Chiama i programmi I variami dei programmi Come lei E scrive pure storie Di loro insieme Così le fa Piccianti Condividendo In una vita domestica Probabilmente Probabilità Del colpo di fulmine 100 1% Wow Margine di errore 1% Sì Qualcini penso Bene 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 Con il dottor alfis Che ti aiutava Ma dottore Dottoressa Ma non lo siete scrittati Di R Non lo so Ma io Lo show Non ha avuto Quella tensione Drammatica Drammatica Non possiamo andare avanti In questo modo Ma Ma Questo è solo L'episodio pilota La prossima volta Più dramma Più Più cose romantiche Più sangue Alla prossima Darlings Darlings è tipo Figliolo Beh Era sicuramente qualcosa L'ho notato Anch'io Adesso Possiamo esaminare La prossima distanza Aspetta Lasciami dare il mio numero di telefono Dato po' Magari Se hai bisogno di aiuto Io Potrei Dove ho preso quel cellulare E' antico Ma non è vero i messaggi Oh mio dio E' un Nokia No il primo del Nokia ancora Aspetta un secondo per favore Aspetta Porta l'iPhone Ho sentito dei gatti Ecco Te l'ho Te l'ho potenziato Solo per te Adesso puoi fare i messaggi Oggetti E anche Una chiave di metà Ti ho anche iscritto Al numero uno social network Dall'Andagram Adesso Siamo ufficialmente amici Andrò al bagno Beh Ok E' un computer Con qualche passo La snow Di What What Oh dio Piedi gialli Stanno Zampitando Dura Tre minuti Me ne frega il ciascio Va bene lo stesso Mi state interrompendo Lo sappiamo Ci divertiamo Libri scientifici Sembrano molto Vini Vulvere A quante cose ci sono qua Sembra il tavolo di lavoro di Alphys Sembra sporco Va bene What E' un poster Per il bromo del Metatron Ok Non c'è niente altro qua nel laboratorio Veramente Ah no Scherzavo C'è una strada Sono uscito dal laboratorio Alphys Stato Alphys Ha aggiornato Su stato Ho appena realizzato Di non aver guardato Andrini In combattere In mano Alphys Ha aggiornato Lo stato Beh So che è Imbattibile Le chiederò Dopo Oh Alphys Ha aggiornato Lo stato Da adesso in poi Devo chiamare L'umano Per guidarlo Best musica I nemici Vulcan Vulcan Abbracciate i vulcani Mi fa un culo Ti scatta il cuore E anche il tuo corpo Au La tua difesa È calata Ah Così Armorevole Che cazzo è Ok posso risparmiare Hai vinto Tu 40 oro Alphys Ha aggiornato Sto per Mazzare Devo chiamare Adesso Tra un minuto Devo chiamare Tra un minuto Ma che cazzo Tu Ti Quazza Catacca Racatà Tutto Scusatza Racatacatacca Non era abbastanza Ti riempi Di determinazione Grazie Ho ad usare Ho ad usare Ho ad usare il telefono Non voglio fare questo È il mouse Cos'è il mouse? Il mouse Sander Plena Non l'ho capito Flirti Ha delle ali Belle Carine Perverti Poco Sto scelerando Approccia Ti avvicina Ma non abbastanza Umano Mi cura Figata Asciuga Non abbastanza Ma non abbastanza Ancora? Ah Adesso Mi sono avvicinato Adesso Ma che Oddio Non l'avrei mai capito Ovvio Non mi sono sbagliato E ho sbagliato No Eh Sì Non lo so Ah Ah E ha scelto Portano tutti Davvero Oh 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 mio dio Non ho Ho lasciato la mia zampa Dall'ultima digerazione Da 5 minuti Oh mio dio Sto per fare Lo chiamerò soltanto Basta Chiami però Grazie Di Ah Esitato Per 5 minuti Chiunque stasse chiamando Ha messo giù Prima che potessi rispondere Ciao I laser blu Intendo E qui Alphys Ciao I laser blu Non ti faranno male Se non ti muovi Quelli ragioni Devi muoverti E loro Non ti faranno Muovici attraverso quelli Ehm Adio Adio Oh mio dio C'ho fatta Vabbè Non è possibile Aspetta Non c'è Non c'è campo Qui sotto Non l'ho capito No E ora Cos'è No Aspetta Sono curioso Oh mio dio Sono difficilissimi Da schimare Ehm Se non è più E' il direttore Prendilo Ok I laser Sono stati disattivati Prendilo Alphys Adesso c'è un'altra stanza Un dio Non dimenticato di te Di diri dove andare Foto carina di me adesso E' una foto di spazzatura con Del rosa Cosa Dei brillantini rosa Tipo Dove devo andare Qui qui Alphys Ehm La porta più a nord Sarà bloccata Finchè tu non riceverai Puzzle A destra A sinistra Io penso che dovesse andare A destra prima Andiamo a destra Fino adesso Le cose che mi ha detto Se lo diravate bene Ok